questo è un video che aspetto da lungo tempo di fare perché sono nuovamente qui con canon eos r5 ma oggi vi presento finalmente l'rf 24 70 mm cominciamo col video ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono cesare e oggi vi parlo di fotografia anche se ho poca voce e ho poca voce perché sono di ritorno da una giornata di lavoro molto intensa a misano adriatico durante la quale ho fatto cose inerenti al mondo dello sport in particolare sono stato coinvolto in una sessione durante la quale abbiamo fatto foto e video a un team che partecipava a una gara mondiale di motorsport per l'occasione mi sono dotato di un mezzo che è superiore a quella che è la mia abituale capacità come sapete io normalmente registro i miei video con canon eos r7 che sto usando anche adesso faccio le mie foto con canon eos 5d o magari con eos r che comunque avevo portato con me come backup perché non si sa mai però in certi casi voglio avere l'attrezzatura pesante e quindi ho noleggiato canon eos r5 e questa volta ho richiesto un'ottica zoom anzi ho richiesto due ottiche zoom ma ne parleremo in un video successivo ho richiesto un'ottica zoom rf perché volevo tutti i privilegi che derivano dall'utilizzo di un'ottica compatibile 100 per cento con un corpo mirrorless e quindi mi è stato affidato questo meraviglioso 24 70 mm f 2.8 una lente che io ho sempre reputato costare troppo costa veramente uno sproposito quest'ottica eppure ragazzi vi posso dire che quando l'ho avuta in mano quando ho cominciato a lavorarci sono sbiancato e mi sono detto porca miseria li vale tutti comincio a snocciolarvi qualche caratteristica innanzitutto rimuoviamo l'anello paraluce che però non è un accessorio da sottovalutare perché come non faccio mai a meno di ripetere può aiutarci a risolvere situazioni di luce parassite rimuovere riflessi indesiderati soprattutto se come me scattiamo all'aperto infatti io l'altro giorno l'ho usato e ora sono a mostrarvi la lente quindi denudata del suo paraluce questa è l'ottica come si presenta come potete vedere è grossa non è certo un'ottica piccola è molto grossa e ha una cosa che non è da sottovalutare che è il blocco quindi qui c'è sentite questo bellissimo click materiale è costruita bene è un'ottica di ottima costruzione secondo me si sente che non è per niente cheap d'altronde con quello che costa questo pulsantino serve a bloccare lo zoom quindi lo zoom è molto solido come potete vedere non zoom in avanti da solo se la incliniamo verso il basso e allo stesso modo non zoom da sola indietro se abbiamo zoomato tutto avanti e la puntiamo verso l'alto quindi lo zoom è duro come è giusto che sia perché non deve zoomare da sola quindi da quel punto di vista fantastico è un'ottica ovviamente tropicalizzata è un'ottica di serie l come potete vedere c'è il mitico anello rosso quindi stiamo parlando della fascia alta in questo caso altissima perché questa è una lente dove veramente non ci sono compromessi costa una barca assurda di soldi ma ragazzi io vi assicuro che la performance è devastante durante l'intera giornata di riprese io ho maltrattato abbastanza questa questa strumentazione nel senso non l'ho lanciata dentro nel camion però insomma me la sono portata indietro a mano così come come potete vedere io non uso tracolle quelle non sono giocattoli per me io la voglio in mano non ho usato niente del genere l'ho sempre tenuta in mano come potete vedere per me il peso non rappresenta un problema e vi assicuro che io ho tenuto questa ok questa strumentazione in mano quindi corpo macchina r5 più quest'ottica non pesano poco pesano abbastanza sono il primo ad ammetterlo l'ho tenuta in mano qualcosa come 12 ore senza problemi quindi per me il peso veramente non rappresenta un problema io penso alla qualità prima che al peso e come potete vedere se vuoi la qualità pesa ancora un sacco non è che con la mirrorless automaticamente pesa di meno i giocattolini pesano di meno l'entry level pesano di meno quali sono giocattoli se vuoi una roba seria pesa tanto quanto prima se non forse anche di più perché questa lente pesa di più del 24 70 che avevo prima quindi secondo me siamo addirittura cresciuti di peso devo dirvi anche qualcosa che non mi piace di questa lente dai via vi dico una cosa che non mi piace diametro della lente è 82 mm perché questa cosa non mi piace in realtà mi piace da matti guardate com'è grosso il frontale fa entrare un sacco di luce è proprio bello però non mi piace che sia diverso dalle ottiche che avevo in precedenza perché io sono abituato a lavorare con il 77 mm quindi tutti i miei filtri su quest'ottica non montano questo è un peccato e quindi non ho potuto usare il mio filtro nd vabbè lo sapevo quindi ho dovuto fare dei compromessi e giocarmela di diaframma di tempi di iso per avere l'esposizione corretta non ho potuto usare i miei filtri questa è una cosa che un po mi è dispiaciuta però ti compri una lente come questa ti vai a prendere anche i filtri io l'ho presa a noleggio per fare un lavoro quindi i filtri non ce li avevo amen parlando di performance vi assicuro che è assolutamente imbarazzante lavorare con una lente come questa perché abbinata a questo corpo macchina poi ovviamente non vi garantisco che sia così su tutti i corpi su cui l'andate a mettere però questa combinazione rende il lavoro veramente imbarazzante imbarazzantemente semplice perché fa tutto da sola si prende cura del 90 per cento delle cose completamente da sola ora ne abbiamo già parlato in lungo e in largo a me questa cosa piace fino a un certo punto nel senso che a me piace scattare con la reflex mi piace prendermi cura di certi aspetti il punto di messa a fuoco l'esposizione il bracketing il metering sono tutte cose che a me piacciono perché io ho il gusto di scattare e questo è un discorso nel momento in cui stiamo cercando il piacere d'utilizzo sono io il primo a dire che questa non è la macchina per noi perché questa è una macchina pratica è una macchina super pro è una macchina da professionisti e quindi quando io sto lavorando sto lavorando non sto pensando tanto all'esperienza d'uso sto pensando a portare a casa il lavoro se io sto lavorando questa macchina con questo obiettivo è imbarazzante perché ti permette di portare a casa il lavoro con una facilità veramente estrema sotto tutti i punti di vista attenzione io vi dico questo e io vengo dal sistema reflex e vengo ancora prima dalla pellicola quindi c'è anche da dire messa in mano mia io sapevo già usare quelle di prima mi metti in mano questa è evidente che io ho abituato a lavorare scomodo perché con certe cose con le reflex soprattutto per fare video si lavorava scomodi mi metti in mano questa è evidente che con tutto il mio bagaglio arrivo prendo questa e mi sembra facile non significa che mettere in mano questa a chiunque risulti altrettanto facile se uno è completamente a digiuno e gli metti in mano questa non la sa manco accendere detto questo che cos'è che mi ha fatto veramente impazzire di questa combinazione innanzitutto sistema di messa a fuoco sistema di messa a fuoco che io ogni tanto critico perché a me piace lavorare col singolo punto di messa a fuoco centrale fare le mie composizioni eccetera però questo per quanto riguarda il lato foto per quanto riguarda il lato video io trovo veramente meravigliosa una macchina come questa perché in questo caso io posso io apro il mio il mio display tiltabile orientabile tutto quel cavolo che voglio faccio la mia inquadratura ho la stabilizzazione sull'ottica faccio la mia ripresa e la macchina mette a fuoco da sola quindi io al di là che io posso mettere a fuoco e quest'ottica ha un meraviglioso anello di messa a fuoco morbidissimo evidente che è pensato per fare video perché morbido così è proprio evidente che è stato pensato per fare movimenti di camera focheggiando quindi è molto gradevole da usare però io lo uso poco perché su una macchina come questa mi rendo proprio conto che la macchina sta mettendo a fuoco al posto mio lo sta facendo maledettamente bene la macchina capisce quando deve dare priorità a una cosa piuttosto che a un'altra capisce quando deve mettere a fuoco un logo lasciando il resto sfocato capisce quando entra in campo una persona capisce quando sto facendo un movimento di macchina è pensata per capire il movimento di macchina che io sto facendo e quindi è veramente devastante perché capisce da sola mi legge nel pensiero capisce quello che sto facendo stata programmata così da gente magari più brava con più esperienza di me quindi conoscono i movimenti macchina che un operatore medio può fare ti legge nel pensiero sa già dove vai a parare fa esattamente quello che vuoi e se anche così non dovesse essere c'è il display durante la mia ripresa io posso mettere a fuoco in un punto e mi tiene il fuoco faccio il movimento camera metto a fuoco in un altro punto e senza che si abbia la minima percezione del fatto che la macchina è stata toccata il punto di messa a fuoco si sposta in maniera fluida meravigliosa gli possiamo dire noi ovviamente quanto deve essere veloce questa transizione perché è una macchina che ci permette di impostare veramente il capello veramente meravigliosa questa combinazione mi sono trovato molto ma molto bene per quanto riguarda i file d'uscita come detto ho fatto sia foto sia video quindi mi ero portato ovviamente cinque batterie perché il punto debole di questa strumentazione è che ci vuole un sacco di energia consuma veramente tantissimo quindi cinque batterie e due memory card da 128 giga cf express quindi le compact flash quelle nuove che costano un salasso costano veramente tantissimo per fortuna io non le ho comprate erano insieme al noleggio ho fatto come vi dicevo sia foto sia video in questo caso devo dire che tutto sommato il metodo di switch tra la modalità foto e video di cui vi ho sempre parlato male non mi è risultata neanche tanto antipatica forse ho capito che cosa avevano in mente quando l'hanno pensata io sto facendo foto premo mode premo info e sono nell'altra modalità voglio tornare indietro premo mode premo info e torno indietro sono due bottoni è sufficiente farci la mano e non è neanche così scomodo alcune camere come la mia adorata r7 hanno uno switch un selettore che passi direttamente tra foto e video sì è più pratico è più facile vedere dove sei a me è capitato un paio di volte durante la giornata di dire dai facciamo la foto e parte la registrazione del video perché sono in modalità video quindi da quel punto di vista è scomodo secondo me però comunque funziona funziona benissimo va bene così l'importante è ricordarsi guardare capire quello che si sta facendo e si lavora da dio con una macchina come questa per quanto riguarda la nitidezza e la qualità delle immagini passo a farvi vedere qualcosa non posso farvi vedere tantissimo perché sono materiali che probabilmente nel momento in cui uscirà questo video saranno già stati pubblicati però al momento non sono ancora stati pubblicati dai clienti e quindi sono restivo a farvi vedere troppo però giusto per farvi tastare la qualità delle immagini e vado anche a farvi vedere un simpatico test che ho fatto con questa lente ora siccome è un momento di vacanza questo perché è il 2 di giugno oggi e qui nel momento in cui registro il video quindi i negozi sono chiusi amazon non consegna avendo io avuto questo noleggio in questo periodo ho stampato un foglio su cui adesso vi faccio vedere un test fatemi sapere nei commenti se vi interessa perché se questo test vi piace lo riproporrò con altre ottiche che andrò via via a provare per voi vi faccio vedere un test scattato su un foglio su cui ho stampato un test di nitidezza ovviamente entra in gioco qui anche la qualità della stampa che non è eccelsa però è comunque un indicatore della nitidezza di questa lente e non vuole andare a sostituire un grafico mtf però lo faccio per farvi vedere effettivamente come performa questa lente su un esempio pratico che siamo in grado di capire tutti quanti e ve la faccio vedere a 24 mm f2.8 ve la faccio vedere a 35 mm a 50 mm e a 70 mm ve la faccio vedere a f2.8 dopodiché ve la faccio vedere a f8 in maniera tale che abbiamo una buona casistica su cui basarci per renderci conto delle performance di nitidezza di quest'ottica secondo me da quello che ho potuto vedere sono molto ma molto buone perché l'intento di canon è chiarissimo l'intento di canon è hai da spendere 3000 euro per prenderti una lente ti diamo una lente buona non ce li hai non ti diamo una lente buona se tu spendi 2000 euro per una lente di canon oggi di quelle rf non è all'altezza di questa perché costa di meno ai 500 euro di budget ti porti a casa una lente che non voglio diventare volgare ti porti a casa una lente che non performa se vuoi una cosa che performi la politica della della casa è chiarissima se vuoi una lente che performa devi spendere più di 2500 euro questo è e da lì non si scappa io sono d'accordo con questa politica assolutissimamente no però sono costretto a constatare che è così quindi se vuoi la qualità ottica di questo tipo questa è la cifra che gli devi scucire e non si scappa non ci sono scorciatoie perché purtroppo questo è detto ciò le prestazioni mi sono sembrate assolutamente sfavillanti su tutto il fotogramma la nitidezza mi sembra veramente fantastica lo sfocato è bellissimo contrasto e colori sono fantastici questo dipende anche dalla camera ovviamente perché abbiamo una fotocamera con 15 stop di gamma dinamica e con un recupero in post produzione di ombre di alte luci che è clamoroso è veramente clamoroso bellissima io adoro questa roba e ovviamente qui abbiamo il selettore di autofocus manual focus che ho usato pochissimo perché l'ho usata quasi sempre in automatico perché è comodo è stramaledettamente comodo così non devi non devi più focheggiare non devi più fare questo gioco qua vai sul display fai tap e ci pensa lei e lo fa meglio di te è veramente pazzesca lo fa meglio di un operatore medio quindi questo è il grande vantaggio di lavorare con una strumentazione di questo tipo essendo una macchina full professional questa veramente ti dà un vantaggio nel senso che dici ok io sono un operatore medio non sono un fenomeno sono un operatore medio quindi normalmente faccio certe cose 90 per cento le azzecco faccio un po di fatica 10 per cento le canno o con questa le azzecchi 100 per cento e non fai più neanche fatica e questo è il della mirrorless vi sto parlando lato video ovviamente perché lato foto per quanto mi riguarda non cambia niente l'unica cosa che cambia lato foto è che ho oltre 40 megapixel e 15 stop di gamma dinamica quindi è bello tornare a casa e avere questo file d'uscita enorme con questa ricchezza di dettagli però a livello foto io la uso ancora così non uso il display per fare foto la uso come fosse una macchina tradizionale quindi da quel punto di vista a me cambia poco se non che la batteria dura molto meno dal punto di vista video questa macchina è devastante e quest'ottica è un'ottima accoppiata e tenete conto io non ho usato la stabilizzazione digitale perché l'ho provata all'inizio però mi fa un crop subito che non mi piace questa roba qui lo spenta immediatamente ho usato solo la stabilizzazione della lente ragazzi le riprese che vi faccio vedere sono fatte a mano libera quindi senza gimbal senza senza nessun tipo di stabilizzatore perché attenzione io ho noleggiato questa al cliente ho dovuto fare un preventivo e a preventivo non gli ho messo anche un gimbal in grado di reggere una macchina come questa perché sarebbe lievitato il preventivo e non era cosa era una situazione run and gun quindi non potevo neanche permettermi di stare lì a poi dovevo cambiare lente avevo anche una lente zoom molto più lunga quindi non potevo permettermi un gimbal in questa situazione non c'era nessun modo per stabilizzare la macchina altrimenti dovevo essere agile e quindi è stato fatto tutto assolutamente a mano libera ragazzi io sono sbalordito dal sistema di stabilizzazione di questo obiettivo perché veramente se sei un operatore medio sembra che tu stia facendo dei movimenti di camera fatti bene stabilizzati anche se in realtà stai facendo così è veramente incredibile sono molto colpito e a questo punto vi dico secondo me quest'ottica vale tutti i soldi che costa il problema è che sono molto pochi a poterselo permettere a volerli sborsare e vi dico io non sono uno di quelli al momento a me non conviene comprare un'ottica come questa perché nessuno dei miei clienti mi richiede questo tipo di prestazioni e quella volta all'anno che me la richiedono io spendo 300 euro 400 euro quel che è e non leggo quello che mi serve e ho risparmiato 2700 euro il resto dell'anno non l'avrei usata una cosa del genere quindi a me non conviene molto bene ma è il momento che molti di voi stavano aspettando perché è il momento di farvi vedere alcune immagini saltiamo nel mio computer e vi faccio vedere i file che mi ritrovo sul computer al termine dello shooting con questa meravigliosa strumentazione ora io andrò a selezionare tutte quante le immagini e andremo ad aprirle con il modulo di sviluppo di photoshop camera raw che come detto diverse volte io preferisco rispetto a lightroom perché mi consente di lavorare su solo su queste foto senza dover ricaricare l'intero catalogo ora come potete vedere qui abbiamo tutte le nostre immagini io adesso vado a zoomare così possiamo apprezzare la qualità del dettaglio spero che riusciate a vedere anche da telefono da quale che sia il mezzo che state utilizzando per fruire questo video si vede abbastanza chiaramente che siamo in presenza di un dettaglio abbastanza fine quindi come sempre le immagini di r5 non deludono adesso però noi andiamo a fare una cosa ovvero selezioniamo tutto quanto e andiamo ad applicare il mio preset sharpening 5d mark 4 questo perché anche se questa non è una mark 4 andiamo comunque a rifinire un pochino il dettaglio e infatti vedete che se andiamo a fare un prima e un dopo vedete che così abbiamo un dettaglio molto molto più presente proprio su tutto il fotogramma a questo punto ci sono alcune cose che mi sento di fare di default su tutte quante queste immagini perché sono state scattate come potete vedere in un contesto che aveva delle caratteristiche simili era la stessa giornata ed eravamo nello stesso posto per cui una cosa che mi sento sicuramente di fare è di andare a mitigare un pochettino le alte luci andiamo a vedere come siamo messi qui abbiamo un po di perdita di dettaglio stranamente abbiamo perdita di dettaglio in questa zona ma non nel cielo è una cosa insomma un po anomala di solito il cielo è la cosa più luminosa invece in questo caso non lo è facciamo una cosa di questo tipo e poi andiamo ad aprire un pochettino le ombre e andiamo a vedere un prima e un dopo direi che è decisamente meglio perché così abbiamo recuperato tutto quello che dovevamo recuperare nella nostra scena si tratta di un cielo nuvolo quindi il colore è assolutamente corretto e volevo farvi vedere il recupero delle luci guardate in particolare qui in particolare in questa zona vi assicuro che un recupero di questo tipo è assolutamente stupefacente questa è la cosa che mi piace da impazzire di questa fotocamera che abbiamo la possibilità di tirare fuori dettagli che altrimenti sarebbero semplicemente stati bruciati e sarebbero andati completamente persi qui invece riusciamo a recuperare questo dettaglio anche nelle alte luci è una cosa veramente che mi fa impazzire di questa fotocamera andiamo a vedere successivamente ma qui abbiamo esattamente ho applicato le stesse cose quindi qui abbiamo esattamente lo stesso contesto e infatti vedete che la foto si comporta esattamente nello stesso modo qui abbiamo delle fotografie simili con tutto quanto il team quindi abbiamo esattamente lo stesso contesto e vedete che il cielo si comporta esattamente nello stesso modo adesso il mio computer sta facendo un po fatica a processare perché queste sono immagini chiaramente molto molto pesanti andiamo avanti e vediamo che qui abbiamo le ultime immagini dove forse la luce era un po cambiata in effetti qui mi sembra che sì qui c'era moltissimo contrasto ovviamente in questa seconda serie di immagini mi sembra di averlo ridotto quasi troppo quindi adesso andrò a selezionare queste ultime immagini che comunque condividono gran parte delle caratteristiche vado a selezionarle tutte riapriamo i nostri comandi per vedere se ci sono aree bruciate in questo caso vado a ridargli un pochino di bianchi e qui infatti come potete vedere qui non c'è niente di bruciato fino a questo punto quindi questo i whites li posso lasciare a zero in questo caso e adesso l'immagine è meglio rispetto a prima perché abbiamo recuperato un po di contrasto quindi molto molto meglio così in questo caso fatemi vedere un po questa qui era la pista chiaramente quindi qui noi eravamo scesi sulla pista per per fare le fotografie i video della moto che dovevamo presentare e in questo caso qui abbiamo una condizione dove ho mitigato parecchio il contrasto quasi me la sentirei di ritirarlo un pochettino indietro però soprattutto la cosa che voglio fare è recuperare un po di cielo perché questo cielo non era così spento e smorto era un cielo non dico frizzante però insomma c'era del blu e quindi io voglio che si veda questo blu diciamo una cosa del genere direi che è decisamente meglio paradossalmente mi tira fuori anche il blu in quest'area ovviamente che io potrei non volere però nell'economia della foto direi che intanto potrei andare a diminuire la saturazione localmente però direi che non si nota assolutamente e che comunque il resto dell'immagine ne ha beneficiato quindi direi che sono molto propenso a lasciarla così e vi dirò di più vado a copiare tutti i parametri anche sulle due immagini che seguono perché sono state scattate nello stesso momento e quindi i parametri sono esattamente gli stessi procediamo e questa è l'ultima parte questo ormai era queste erano foto dell'allestimento ultimato però insomma non stava succedendo niente era tutto fermo quindi sono immagini un po di repertorio in questo caso io voglio assolutamente fare la stessa cosa che ho fatto prima quindi voglio tirare fuori un po di cielo perché una cosa che non mi piace assolutamente sono i cieli bianchi quindi vorrei dargli un pochino più di colore se possibile e in questo caso ok siamo passati da questa che è bruttina diciamocelo siamo arrivati a questa che reputo essere molto meglio vado ad aprire un penino di più le ombre ma più di così penso di non poter fare e quindi a questo punto vado ad applicare questi parametri su fatemi vedere su tutte quante perché lo shooting termina qui quindi vado ad applicare su tutte quante e adesso andiamo a vedere se ci sono correzioni locali che possiamo fare perché per esempio questa questa io forse tiro un pochino giù l'esposizione e poi ritiro un pochino su solo le ombre perché voglio aprirla questa situazione cioè io non la vedevo così questa scena la vedevo così voglio riportare la mia foto a illustrare quello che io vedevo veramente con i miei occhi credo di poter fare la stessa cosa anche su queste due quindi applico esattamente gli stessi parametri e dovrei ottenere esattamente la stessa cosa non sono le foto migliori che abbia mai fatto queste è indubbiamente ne ho fatte di meglio queste qui sono foto di degli allestimenti ma qui non stava succedendo niente era ancora chiuso al pubblico come piace a me perché poi con la gente davanti sarebbe stato impossibile lavorare in un contesto come questo adesso andiamo a fare solo una piccola correzione rimuoviamo questa bottiglia e insomma io non sono proprio un ambientalista però tra non essere ambientalista e apprezzare le bottiglie di plastica in terra ce ne passa quindi la facciamo sparire ci sarà anche in quest'altra foto ovviamente invece no invece no perché è rimasta fuori da qualche parte e quindi io direi che possiamo considerare terminata la sessione perché abbiamo portato tutte queste immagini ecco qui un'altra bella bottiglia guardate che roba facciamo sparire anche questa e quindi questa immagino che ci sarà anche qua che qui ho scattato dallo stesso punto ecco di qui facciamo sparire anche questa bottiglia e io direi che con questo abbiamo concluso molto bene amici rieccoci in studio come avete potuto vedere le immagini secondo me sono una bomba tenendo anche conto che abbiamo scattato di giorno sotto il sole in piena luce sì c'era un po di foschia però non è proprio un contesto idilliaco foto sono venute bene ma maledettamente bene vogliamo parlare del fatto che l'immagine di queste mirrorless è un po digitalona è un po ha ancora una sensazione che ancora meno analogica rispetto alle reflex è vero è vero ragazzi me ne accorgo anch'io guardando le immagini mi rendo proprio conto che è un po più digitalone tutto quanto laddove magari con una reflex questo me l'hanno detto in molti avevamo la naturalezza dei colori c'era più naturalezza nei toni c'era meno meno micro regolazioni del del contrasto meno sono proprio non sono artefatti però ci sono dei punti in cui sembra che l'immagine sia già parzialmente elaborata già dal raw su un sistema di questo tipo è una cosa di cui io mi accorgo non è necessariamente negativa mi rendo anche conto che questo è l'effetto che otteniamo quando abbiamo tanti megapixel e tutti questi stop di gamma dinamica ovviamente se vogliamo tutta questa gamma dinamica andiamo a espandere il contrasto e qualcosina perdiamo perdiamo qualcosina in naturalezza è una cosa a cui secondo me si fa l'occhio ci si abitua ed è una cosa che io sono anche disposto a fare per questa gamma dinamica perché 15 stop di gamma dinamica a me piacciono mi viene veramente la bavetta se penso a tutti questi stop di gamma dinamica mi piace questa cosa perché il contrasto noi lo possiamo introdurre in post ma non possiamo toglierlo e quindi a me piace questa cosa per quanto riguarda i colori sono un po meno naturali si può eventualmente risolvere un pochino in post agendo su vividezza e saturazione quindi non è una cosa da strapparsi i capelli certo è che il file così come arriva può sembrare un po meno naturale rispetto a quello che ci aspetteremmo da una vecchia reflex sulla 5d cose del genere non succedevano comunque devo dire che il trade off è evidente perché questa è una macchina che performa molto di più sia per quanto riguarda qualità d'immagine sia per quanto riguarda soprattutto stabilizzazione e praticità d'uso è chiaro che è una macchina è una lente pensata per professionisti che fanno lavori pagati molto bene o comunque che fanno tanti lavori che lavorano tanto è un corredo estremamente resistente noi siamo stati cioè pit lane pista da moto quindi siamo stati immersi nello smog nei vapori dei gas di scarico delle moto nella polvere della strada tutto il giorno e guardate la qui che è fresca come una rosa è più bella di me sì le ho dato una pulita le ho dato una pulita anche perché anche se hanno legge non mi piace riconsegnare le cose sporche quindi le ho dato una pulitina col panno tiene è una strumentazione che tiene il lavoro a meraviglia è veramente bella sono veramente contento di aver provato questa accoppiata e a questo punto vi chiedo fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate fatemi sapere se qualcuno di voi ce l'ha se siete così pazzi che l'avete comprata o sono solo invidioso ovviamente la vorrei anch'io economicamente professionalmente a me non conviene non la sfrutterei neanche a me non conviene una cosa del genere io vado alla grande con r7 ci sono certi casi dove il mio cliente vuole qualcosa di più allora mi attrezzo in questo modo e ne approfitto per farla vedere anche a voi fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere se secondo voi costa tanto costa poco costa giusto e io vi ringrazio di aver passato un po del vostro tempo con me vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al canale